Va bene, detto questo possiamo iniziare con l'introduzione del scenario, ecco questa è proprio la parte su cui vado molto veloce perché avevo messo delle definizioni sul concetto di trasformazione digitale così che sicuramente conoscete già anche a livello vedete molto enciclopedico quindi wikipedia, alcuni pilastri della digital transformation, quindi trasformare la customer experience, trasformare i processi operativi, trasformare i modelli di business, rafforzare le competenze digitali. Ecco il fatto che il settore pubblico già di per sé è un po' penalizzato nella trasformazione digitale e questo sicuramente sarete più bravi di voi a raccontarmi storie in cui vi scontrate con la differenza del vostro collega che fa la vostra stessa, diciamo che ha la vostra stessa funzione, il vostro stesso ruolo in un'azienda privata che ha molto le mani libere rispetto a quelle che avete voi in un'ottica di innovazione e digitalizzazione, ma ovvio perché rispetto al settore privato come si spiega qua le organizzazioni pubbliche sono spesso penalizzate da regolamenti inflessibili, da gerarchie, da strutture burocratiche, con leadership impreparate a comprendere e assimilare nuove tecnologie, lasciando la sensibilità di guidare l'innovazione e l'innovazione a dipartimenti più piccoli che mancano di personale e risorse finanziarie. Sono sicuro che ne avrete parlato e che avrete da raccontare cose su questo tema, però ecco, adesso direi di rimanere su quello giuridico. Però ecco, il fatto che il pubblico e le amministrazioni abbiano più difficoltà non è perché sono, no, che loro sono le cattive della storia, è perché devono rispettare una serie di vincoli, che sono garanzie, non sono necessariamente solo ostacolo burocratico. A volte lo è, a volte il pubblico deve stare più attento semplicemente perché è il pubblico, deve comportarsi in un altro modo, deve rispettare una serie di obblighi, di vincoli che il pubblico deve garantire perché gestisce i soldi dei cittadini, gestisce i dati dei cittadini, quindi l'atteggiamento deve essere necessariamente diverso e quindi è un po' strutturale questo ritardo. Questi sono un po' gli ambiti giuridici, è una slide che ho trovato su un altro sito, vi metto qua la fonte. Diciamo noi ci occuperemo, sono 4, 5, vedete, noi ci occuperemo di 3 di questi, più altri, qua ad esempio non c'è la parte sull'intelligenza artificiale, però copyright, data protection, IT security sono un po' i tre temi core della trasformazione digitale. Ecco, questa slide a me piace molto, è recentissima perché l'ho vista circolare su Twitter da un mio contatto, Giorgia Lodi, che è una docente divulgatrice su temi appunto di digital transformation e di open data. molto brava perché ha fatto questa slide onnicomprensiva di tutti gli interventi che, vedete, l'Unione Europea sta mettendo in campo in quella che viene chiamata digital decade strategy, cioè la strategia per questo decennio digitale. Decennio digitale dovrebbe essere questo che stiamo vivendo, dal 2020 al 2030 più o meno, quindi l'obiettivo 2030 è arrivare in questi dieci anni a una vera transizione verso il digitale definitiva e radicale. E questi sono, vedete, questi cinque della seconda colonna, le cinque aree di intervento su cui l'Unione Europea si sta muovendo. La data strategy, la privacy, che io preferirei chiamare più propriamente data protection, digital services, cyber security strategy e AI, che sta per artificial intelligence strategy. E qua a destra, per ciascuna di questi capitoli, abbiamo gli interventi normativi più importanti, di cui alcuni appunto sono ancora embrionali in fase di approvazione. Data governance act, allora dove c'è scritto act ve lo spiego meglio dopo, però sono i regolamenti europei, detti all'inglese act, e dove c'è scritto directive sono le direttive. E dopo vi spiego bene la differenza. Poi c'è il nostro amico GDPR, che sicuramente conoscerete, perché vi avranno fatto una testa così, con corsi di formazione, procedure da rispettare e via dicendo, e la e-privacy regulation, e poi abbiamo il pacchetto digital services, che è composto da due che sono già stati approvati, i primi due, digital services act e digital markets act. L'interoperable act invece è uno di quelli che è in fase di bozza, e quindi io non lo tratto. E poi vabbè, single digital gateway, un altro documento. Cyber security, vi farò vedere le due principali fonti, appunto, una direttiva europea, un regolamento, e poi il regolamento sull'intelligenza artificiale, che invece anche lui è ancora in fase di bozza, quindi ve lo faccio vedere come slide veloce, ma non ci fermiamo molto. Questo è un po' l'indice sommario di tutta la panoramica che faremo, ma, vabbè, qua ci sono un po' di rilievi critici, ve li faccio leggere in autonomia. Però ecco, questo, il fatto che a livello del settore pubblico si sta effettivamente verificando un'eccessiva produzione di norme giuridiche. Perché c'è questa credenza, che probabilmente è un po' drogata dalla foga verso l'innovazione, per cui, visto che in alcuni settori pubblici non si riesce a fare una transizione digitale efficace, allora la forziamo attraverso la norma, no? Con le sanzioni, con i regolamenti, con le procedure. E questo funziona fino a un certo punto, lo saprete meglio di me, no? Nel senso che a volte continuare ad aggiungere leggi, regolamenti locali, procedure, linee guida, non è che abilita necessariamente l'innovazione, a volte appesantisce ulteriormente l'operatore che deve studiarsi queste cose e quindi addirittura poi c'ha, come dire, una reazione di rifiuto, no? Per cui faccio questa cosa perché sono obbligato a farla e devo farla in questo modo perché c'è una procedura che dice che devo farla così. E quindi non apprezza, non capisce davvero quello che ci sta detto e perché si sta andando verso il digitale. E quindi potrebbe addirittura a volte essere un autogol. E un esempio emblematico che faccio è quello della normativa sulla firma digitale, sull'identità digitale. Noi abbiamo una normativa che era avanzatissima negli anni 2000, nei primi anni 2000 eravamo tra gli Stati europei quello che aveva una normativa sulla firma digitale, sull'identità digitale molto avanzata. Però eravamo anche quelli che la usavano meno, che era bizzarro, quindi avevamo una normativa super precisa, super avanzata ma poi c'era molto poco utilizzo. Magicamente poi arriva quel momento storico bizzarro in cui ci siamo trovati chiusi in casa per due mesi, tre mesi non si poteva fare nulla e allora tutti si sono accorti che i contratti si potevano firmare anche con la firma digitale. Non solo le banche, non solo le poste, ma anche le aziende private, ma anche le piccole pubbliche amministrazioni che per rapportarsi con i cittadini per alcune cose si sono accorti che si poteva fare davvero. No, ma in realtà si poteva fare da molto prima, rilasciare un certificato online tramite speed c'era già tutta la tecnologia, c'erano già tutte le norme per farlo, semplicemente nel 2020 ci siamo svegliati e ci siamo messi a farlo. Un altro esempio per cui a volte la norma in sé non è sufficiente come driver perso l'innovazione ma ci vuole anche un atteggiamento più appunto, bisogna lavorare sulla formazione delle persone, su cambiare la mentalità, far capire quali sono i vantaggi e via dicendo. Altro esempio, parlo di neutralità tecnologica, quello che faccio sulla direttiva o quella che è stata in realtà fermata di recente sulle auto elettriche, che a detta di alcuni studiosi molto più autorevoli di me di innovazione tecnologica poteva essere anche lì un grande autogol per l'Europa perché la tecnologia deve camminare con le sue gambe, non può essere la norma giuridica a stabilire che cos'è l'innovazione buona, no? Perché non sappiamo che strade potrà prendere, cioè l'innovazione va lasciata libera, la legge può al massimo assecondarla. fare una legge che dice per i prossimi 15 anni possiamo investire solo sulla tecnologia perché tutte le altre sono cattive non è detto che sia la scelta più intelligente. E l'esempio che ha fatto un professore che ho ascoltato in un talk show molto molto interessante diceva pensate cosa sarebbe successo se alla fine del 1800 qualcuno avesse fatto una direttiva, una legge che investiva solo e unicamente sulla macchina a vapore perché all'epoca la macchina a vapore era effettivamente quella più efficiente e quella più promettente perché il motore a scoppio, chi lo stava elaborando, aveva ancora dei limiti non si trovavano i combustibili e via dicendo magicamente poi invece la storia ci ha dimostrato altro però ecco, pensate cosa sarebbe successo se qualcuno nel 1880-90 avesse detto no, ma investiamo per i prossimi 20 anni solo sui motori a vapore ecco, quindi bisogna, secondo me, su questo stare un po' attenti chiusa questa appunto riflessione critica andiamo sulla seconda parte ecco, ci sono